Come sono andati questi giorni? Benone, tutto bello, anche la gente è tutto bello. Quanti siete nel vostro gruppo? Qua siamo in nove, dopo a casa ci sono gli altri ma non vengono tutti. Però avevate voglia di fare questa donata? Era ora, dopo due anni era ora. Essere alpini è quello che abbiamo sempre dato e che daremo ancora in avanti e vuol dire anche farsi notare della nostra presenza, che ci siamo. Ancora. Dal Lago d'Orta, provincia di Novara. Quanti siete nel vostro gruppo? Siamo in pochi, solo in otto. Pochi ma buoni però. Noi buoni, come al solito. Grazie. Siete arrivati oggi o arrivate qui anche i giorni scorsi? Già qualche giorno, da venerdì che siamo qua. Come andate questi giorni? Bene, bene, si sta sempre bene giù a Rimini. Peccato il tempo, venerdì è un po' ieri, però tutto bene, bella accoglienza. Bravi! Bravi! È un stran. Bravi! Grazie. Alpini di Cesena e Carlo Mazzoli, sono venuti giù stamattina ma avevamo già parecchi dei nostri qua con le tende e adesso ci godiamo la sfilata. Lei è alpino dal 1962, ne sono passati di anni. Grazie. Bergamo, provincia di Bergamo, Pagazzano. Lei è alpino dal? Alpino dal, militare 689 a Merano. E' venuto qui con la famiglia? Certo, sono qua, tutti gli anni mi seguono. Siete stati qui anche i giorni scorsi? Sì, sotto l'acqua ci siamo stati ma non abbiamo mollato. Comunque sono andati bene questi giorni? Sì, bellissima. Avevate voglia dopo tanto tempo? Ci manca da un po', adesso oggi pomeriggio sfiliamo quindi ci scarichiamo un po'. Grazie. Grazie. Grazie.